ciao a tutti oggi come vedete dalle immagini quello che andremo a fare sarà questo porta rotoloni di carta igienica è una delle vostre richieste una delle più generali tra l'altro perché di richieste per questo porta rotoli ne ho avuto veramente tantissime e ho deciso visto che di porta rotoli nel web ce ne sono di diversi tipi di diversi tipi e forme di farlo molto semplice per aiutare a gelare anche le amiche che hanno appena iniziato ad usare il ferretto magico ma lo volevo fare anche più grande nel senso questo è un porta rotoloni i rotoloni che adesso vanno per la maggiore ora i rotoli di carta igienica normali li compra più poca gente e quindi tutti comprano i rotoloni e quindi ho voluto realizzare questo porta rotoloni bene andiamo subito a vedere cosa occorre e come si realizza per realizzare il nostro facilissimo ma carinissimo porta rotoli abbiamo bisogno di tre filati uno in quantità maggiore che sarà quello con il quale voi realizzerete le due parti di un colore e poi quello per il colore centrale che sarà diverso ovviamente dalle altre dagli altri due poi un filato per profilare poi deciderete voi se lo potete fare tutto tinta unita potete tranquillamente farlo io per la realizzazione di tutto il porta rotoli in tutto così vi regolate se volete farlo monocolore ho utilizzato circa un etto di acrilico perché io l'ho fatto in acrilico se lo volete fare in cotone ovviamente ce ne vorrà circa il doppio quindi se lo volete fare in cotone ci vogliono circa due etti di cotone se è un cotone appunto da lavorare spessettino da lavorare con l'uncinetto numero 3 poi comunque lo sapete se voi fate il campione non rischiate di acquistare meno filato rispetto a quello che vi occorre andiamo poi a usare l'uncinetto numero 3 ve l'ho detto per il porta rotoli ho usato l'uncinetto numero 3 un lago da lana e poi abbiamo bisogno per fare il nostro gancettino ogni uno di questi cerchiettini che vendono nelle mercerie io l'ho comprato in merceria e li vendono in scatoline e sono molto comodi per fare le collane per fare appunto i gancettini delle borse per fare tante cose altrimenti in sostituzione potete utilizzare qualsiasi cerchiettino in plastica potete addirittura ricavarlo da una bottiglia di plastica tanto poi viene viene ricoperto quindi non si vede più bene è un paio di forbici ovviamente per tagliare i nostri fili andiamo subito a vedere come si realizza il nostro simpatico veloce porta rotoli iniziamo con uno e due colori in questo caso iniziato con il color perla e vado a realizzare una catenella di 22 maglie dopodiché ne faccio due ulteriori che vanno a sostituirmi la mia prima maglia alta e saltandone 3 dall'uncinetto entro nella quarta e vado a realizzare la mia prima ma la mia seconda 3 sino 22 chi mi segue da un po lo sa per me la prima maglia è il cappietto iniziale quindi io vado a realizzare la mia ultima maglia alta nel cappietto iniziale la mia ventiduesima maglia alta e poi chiudo il cappietto sulla maglia in modo da togliere la codina volto due catenelle a ogni giro quindi farò sempre due catenelle saltando la prima maglia di base ovviamente perché viene comunque sostituito dalle catenelle e vado a realizzare giri righe di andate e ritorno a maglia alta sino a raggiungere un'altezza di 42 cm per realizzare i miei 42 cm di lunghezza di lunghezza così io ho realizzato 39 righe di andate e ritorno quindi ho arrotondato 40 righe così almeno abbiamo un numero pari di righe adesso tagliamo il filo quindi facciamo una catenella aggiuntiva tiriamo tagliamo il figlio fermiamo poi facciamo spedire un secondo tempo i fili di lavorazione una volta terminate le 20 righe in bianco anche in questo caso tagliamo e fermiamo il filo facciamo una catenella aggiuntiva e poi tagliamo e fermiamo e riprendiamo il filato precedente e facciamo la stessa cosa quindi entriamo nella prima maglia andiamo a realizzare le nostre tre catenelle e andiamo a lavorare nuovamente per 40 righe per 40 righe così come abbiamo fatto all'inizio una volta che avremo terminato le altre 40 righe del primo colore nuovamente facciamo una catenella tiriamo tagliamo e fermiamo il filo e andiamo a riprendere nuovamente il secondo colore il secondo colore in questo caso io prenderò il bianco entro nella prima maglia così come faccio sempre faccio le mie due catenelle iniziali e poi vado a lavorare la mia riga a maglia alta e ne faccio nuovamente 20 quindi 40 inizialmente 20 il bianco nel colore secondario 40 nuovamente nel colore primario chiamiamoli così e poi nuovamente 20 del colore secondario una volta che avrete terminato di realizzare anche l'ultimi le ultime 20 righe in bianco o nel colore che voi avrete scelto andate a piegare la prima parte quella la mia invece a metà così poi se avete lasciato i fili di lavorazione lunghi utilizzerete quelli altrimenti ne prendete come me uno nuovo piegate le due parti e andate a congiungere la parte beige nel mio caso con la parte beige dovete piegare la metà quindi andrete a prendere punto punto prendo solo la parte in beige così da sotto prendete il punto e vi congiungete con la costina superiore punto costina punto costina e cucite questa parte una volta che abbiamo terminato di cucire tutta la parte andiamo a realizzare lateralmente un punto asola così e ora vi faccio vedere come fare sparire i fili di lavorazione entrate al di sotto dei punti lavorati all'interno dei punti lavorati in questo modo con l'ago il filo da far sparire entrate in 5 6 una decina di punti a seconda di quanti volete poi tirate la lavorazione per distribuire il filo all'interno del dei punti e poi tagliate via il filo in eccesso e lo fate con tutti i fili di lavorazione adesso io prenderò il mio filo bianco una gugliattina di filo bianco e così come ho fatto con il beige unisco le due parti piego così e vado a prendere un punto ovviamente iniziale con il punto corrispondente dall'altra parte poi piego bene in modo da avere bene visibile la parte in bianco e faccio punto punto qui non la costina o il punto e faccio un punto un punto un punto in bianco e il punto corrispondente dall'altra parte punto 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 picco anche questa parte una volta che avrete terminato di cucina una parte unirete l'ultima parte da da unire cuccire e con uno dei due colori a scelta in questo caso io lago con il bianco e lo faccio col bianco, vado ad unire, in questo modo entro, passo ovviamente sotto, aggancio il punto sotto e esco fuori, torno indietro, esco nel punto successivo, torno indietro e esco nel punto successivo, indietro e punto successivo e procedo così fino ad aver chiuso tutta la riga. Una volta che avremo terminato di attaccare tutte le parti ci ritroveremo tre sezioni separate, così. Adesso andiamo a realizzare la parte superiore, quella da attaccare, quindi dove andremo ad attaccare il gancettino. La parte del rovescio è quella dove abbiamo fatto le cuciture, quindi la parte opposta ovviamente è il diritto del lavoro. Pieghiamo una delle due parti, la piegate bene a metà, che sia proprio perfettamente a metà e poi con l'uncinetto è lo stesso filato della lavorazione, quindi dello stesso colore, andremo a riprendere 22 maglie. Iniziamo con la prima, la prenderemo, prenderemo della maglia all'interno, vedete, passate proprio all'interno, la prendiamo praticamente in costa, così, lateralmente, entro e tiro su una catenella, poi rientro e tiro su una maglia bassa, entro in mezzo alla successiva e tiro sulla maglia bassa, e nuovamente. E lo faccio per tutte le maglie, lavorando a maglia bassa, così. Vado praticamente a riprendere tutte le maglie in questo modo. Abbiamo adesso 22 maglie, voltiamo e andiamo a realizzare due diminuzioni, quindi saltiamo la prima maglia, quindi non lavoriamo la prima e lavoriamo la seconda a maglia bassa. Adesso da ora in questa parte lavoreremo a maglia bassa e lavoriamo tutte le maglie sino alle ultime due, le ultime due le lavoriamo insieme, quindi entriamo nella prima, entriamo nell'ultima, tiriamo sui punti e poi li chiudiamo insieme. Ora voltiamo e andiamo nuovamente a lavorare una diminuzione all'inizio e una diminuzione alla fine. Quindi entriamo nella seconda maglia, saltando la prima e abbiamo fatto la diminuzione a destra. Lavoriamo tutte le maglie sino alla fine della riga e le ultime due le prendiamo insieme, così come abbiamo fatto nella riga precedente. E lavoriamo in questo modo, quindi andando a diminuire ad ogni riga una maglia all'inizio e una maglia alla fine della riga, sino a rimanere con dieci maglie. Una volta che avremo dieci maglie, procediamo con lavorare sei righe di andata e ritorno di dieci maglie e poi andremo ad aumentare nuovamente una maglia all'inizio e una maglia alla fine, fino a ritornare ad avere le nostre 22 maglie di inizio. Comunque quello poi lo facciamo dopo insieme. Lavoriamo adesso sei righe di andata e ritorno di dieci maglie. Una volta che avrete terminato di realizzare le sei righe di dieci maglie, procederete con l'aumento di una maglia ai lati, fino ad arrivare ad avere nuovamente 22 maglie. Per l'aumento facciamo due maglie nella stessa maglia, quindi una e due maglie nella prima maglia, lavoriamo tutte le altre maglie normalmente e nell'ultima maglia ne andremo a realizzare due, quindi una e una due. E procediamo così fino ad avere nuovamente nel nostro lavoro 22 maglie. Una volta che abbiamo nuovamente 22 maglie nel nostro lavoro possiamo fare una catenella aggiuntiva, tirare, tagliare un pezzettino di filo abbastanza lungo che ci permetta di cucire e fermare il filo. Adesso prendiamo il filo a contrasto, quindi in questo caso io prenderò il bianco, il cerchiettino e andiamo a ricoprire tutto il cerchiettino con una riga di maglia bassa, una riga in giro. Entriamo all'interno del cerchietto, agganciamo il filo da sotto e lo facciamo passare fuori, così, e facciamo la maglia bassa. Entriamo, agganciamo il filo, usciamo, saliamo e facciamo la maglia bassa. In questo modo andiamo a ricoprire tutto il cerchiettino di plastica, quello che avrete trovato, se poi magari l'avete trovato, un cerchiettino già carino di suo, potete anche utilizzare uno piccolino di quelli che vendono per le tende di legno, è carino anche così, io ora la forzetta di mano non ce l'ho, cioè li ho ma sono troppo grandi e allora mi adeguo e faccio questo lavorino con l'uncinetto intorno ad un cerchietto di plastica e procedo fino a che non l'ho ricoperto tutto. Una volta che avrete terminato di ricoprire il cerchiettino, vi agganciate la prima maglia, fate una maglia bassissima, tirate, tagliate, fermate il filo, poi con l'ago da lana lo fate sparire all'interno dei fili di lavorazione, come facciamo sempre. Poi allineate bene tutta la lavorazione in modo da renderlo armonioso, poi la parte diciamo dove avete chiuso la metterete all'interno, adesso controllate qual è il diritto e qual è il rovescio del vostro lavoro, questo è il rovescio, questo è il diritto, andate ad inserire il gancettino e fate passare tutta la lavorazione all'interno. Lo bloccate al centro, in questo modo, procediamo quindi con la cucitura andando come prima ad unire le due parti e a unire punto con punto le vostre maglie, così partiamo dalla base, punto, punto, e cucite, punto, punto, così, come abbiamo fatto per unire i vari scomparti del nostro portarotoli. Una volta che avrete terminato, tirate bene la lavorazione in modo da adeguare l'inizio del centro della lavorazione all'anellino, tirate bene e avrete realizzato il gancetto da attaccare. Adesso andiamo a fare le decorazioni. Per le decorazioni faremo dei cuoricini compatti, dei cuoricini pieni. Iniziamo con un anellino magico dove andremo ad inserire tre maglie basse. Quindi, catenella, una, due e tre maglie basse. Tiriamo l'anellino, voltiamo il lavoro e ne facciamo ancora tre. Quindi, sopra le tre maglie basse ne facciamo ancora tre. Una, due e tre. Adesso andiamo ad aumentare due maglie ai lati. Quindi, nella prima maglia facciamo due maglie basse. Una e due. Lavoriamo la maglia centrale normalmente e nell'ultima maglia facciamo un altro aumento. Quindi, altre due maglie basse nell'ultima maglia e siamo adesso a cinque maglie basse. Voltiamo il lavoro e facciamo cinque maglie basse. Una, due, tre, quattro e nell'ultima cinque. Ora voltiamo il lavoro e facciamo un altro aumento ai lati. Quindi, una e due nella prima maglia. lavoriamo le tre maglie centrali normalmente e nell'ultima maglia ne lavoriamo due. Abbiamo fatto l'altro aumento. Ora voltiamo il lavoro e abbiamo aumentato due maglie quindi da cinque siamo a sette. Lavoriamo sette maglie basse. Due, tre, quattro, cinque, sei e l'ultima sette. Adesso procediamo a lavorare sempre andando ad aumentare una riga sia e una riga no ai lati fino a ritrovarci nel nostro lavoro con 13 maglie basse. Quindi, nella riga di andata facciamo gli aumenti ai lati. Quindi, due maglie nella prima e due maglie nell'ultima. Nella riga di ritorno lavoriamo le maglie come si presentano sino a ritrovarci con 12 con 13 maglie basse nel nostro lavoro. Una volta raggiunte le tredici maglie procediamo con la lavorazione dei due le due parti separate del cuoricino. Quindi, andiamo a lavorare sei maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie basse. Voltiamo e facciamo due diminuzioni laterali quindi saltiamo direttamente nella seconda maglia senza lavorare la prima. Una, due, tre e le ultime due le lavoriamo insieme. Entriamo nella prima, tiriamo sul filo, entriamo nella seconda, tiriamo sul filo e le chiudiamo insieme. Procediamo nuovamente, adesso ne abbiamo quattro, facciamo altre due diminuzioni, dobbiamo avere due maglie quindi entriamo direttamente nella seconda, la lavoriamo, terza, quarta, insieme. Voltiamo, una diminuzione totale. Entriamo nella prima, entriamo nella seconda e facciamo una maglia. Poi facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Ora voltiamo al lavoro, saltiamo la maglia centrale, ci agganciamo nella maglia successiva e andiamo a realizzare una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie basse. Voltiamo e lavoriamo così come abbiamo fatto qui. Quindi, diminuzione a ogni riga da ambo le parti fino a rimanere con una maglia sola. Nella, nella secondo, nella seconda parte però del cuore, invece di tagliare il filo, una volta che abbiamo fatto la catenella aggiuntiva, andiamo a lavorare un giro di maglia bassa tutto intorno al nostro cuoricino. Quindi entriamo lateralmente nei punti e andiamo a bordare il nostro cuoricino. Quando arriviamo in prossimità della punta, facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa nella punta dell'anellino magico. All'interno facciamo maglia bassa, catenella e maglia bassa e poi procediamo con il proseguimento dall'altra parte della ripresa di tutti i punti. Quando arriviamo nella parte centrale, dopo che abbiamo bordato l'aletta, facciamo nel punto centrale una maglia bassissima e procediamo con la lavorazione delle maglie basse, così come abbiamo fatto da questa parte, quindi andiamo a ricongiungerci con l'inizio, ecco qui, ci congiungiamo con una maglia bassissima, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo e facciamo sparire i fili di lavorazione così come abbiamo fatto in tutto il lavoro. E di questi cuoricini ne realizziamo tre, con due del colore contrastante con le due parti superiore e inferiore e uno del colore contrastante nella parte centrale, quindi nella parte centrale faremo il cuoricino di questo colore, in queste due parti lo faremo di questo colore, nel mio caso è bianco, quindi andrò a mettere i miei due cuoricini bianchi, qui è il cuoricino beige nel centro. Prima di andare a vedere come bordare gli laterali del nostro portarotoli, andiamo a vedere come attaccare i cuoricini. Allora dal basso contiamo sei righe, una, due, tre, quattro, cinque, sei, posizioniamo la punta del nostro cuoricino proprio sulla sesta riga, appoggiata sulla sesta riga, quindi andiamo ad appoggiare, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, e appoggiamo qui il nostro cuoricino. Poi lo fermiamo con un ago un po' più lungo, io uso molto questi aghi da chiacchierino, lo posizioniamo dritto, così, e andiamo a fermarlo in questo modo per iniziare a cucire senza paura che poi ci si sballotta. Potete anche usare un paio di aghi più piccoli, e se non avete questi. Adesso, se avete tagliato il filo abbastanza lungo, usate lo stesso filo con l'ago, altrimenti ne prendete uno nuovo, ed andate ad acchiappare con l'ago un punto sotto della lavorazione, inserite la mano all'interno, così, e poi andate a cucire lateralmente facendo un punto, andiamo a cucire a punto passante, quindi un punto indietro e un punto avanti, torniamo indietro di un punto e andiamo avanti di un punto, come facciamo solitamente sulle cuciture piatte, così, indietro di un punto e avanti di un punto, indietro di un punto, avanti di un punto, questo adesso possiamo togliere l'ago, e andiamo a cucire, in pratica, tutto il nostro cuoricino, tutto intorno. Una volta che avremo terminato di cucire, inseriremo l'ago all'interno del cuore e facciamo, con il filo da far sparire, e facciamo sparire il filo, e procederete ad attaccare tutti e tre i vostri cuori, ovviamente a contrasto, o come avrete scelto, se avete scelto di farlo tinta unita, ma a contrasto mi piaceva, mi piace molto l'idea del contrasto, adesso per andare a realizzare questo bordino, utilizzerete anche in questo caso un colore a contrasto, prendendo appunto, io uso questo grigio, perché questa combinazione di colori mi piace molto, la trovo molto elegante, partite dall'angolo, dall'angolino, qui, e in ognuna delle maglie alte, quindi lateralmente, fate due maglie basse, quindi entrate, in questo modo, una, in questo caso fate una catenella, è una maglia bassa, e due maglie basse in ognuna delle maglie alte, prese in costa, ovviamente, perché la prendiamo lateralmente, qui entriamo, una e due maglie basse, una e due maglie basse, e procedete così, bordando tutto il giro, così come ho fatto qui, vedete, bordate da una parte, arrivate in fondo, girate e bordate la parte di fronte, facendo, semplicemente, due maglie basse in ognuna delle maglie alte, laterali, una e due, una e due, e così fino al termine del bordino, da una parte e ovviamente dall'altra. Una volta che abbiamo terminato con il profilo di entrambe i lati del nostro portarotoli, andiamo a escludere la parte in più che abbiamo realizzato per attaccare il gancetto, quindi pieghiamo ed entriamo a fare un giro, facendo un giro di maglia bassa, nelle maglie piegate, entriamo nella maglia sotto, così, in questo modo, e andiamo a fare la maglia bassa, quindi entriamo nella maglia sotto, maglia bassa, maglia bassa, fino ad arrivare dall'altra parte. Ed eccolo qui come appare una volta terminato il vostro portarotolo, è molto carino, elegante, delicato, molto veloce da realizzare, avete visto, ci vuole veramente poco, però tante volte le cose più semplici sono alla fine anche quelle più carine, quelle più belle, lo realizzerete con i colori del vostro bagno, che riprendono il vostro bagno, e avrete così il vostro portarotoloni, perché vi ricordo che questo qui è stato fatto sulla dimensione dei rotoli, quelli grandi, rotoli doppi. Bene, a questo punto non mi resta che salutarvi e ringraziarvi come al solito per avermi seguito, vi aspetto tutti sul gruppo di Facebook, gli amici dell'angolo di Chris, vi mando un grosso bacio e vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!